Allora Nicoletta, Nicoletta, prima di tutto ci racconti magari per quelli un po' come me che non sono così appassionati di Formula 1, ci racconti bene la diatriba, quello che è successo. Perché piangono i tifosi della Ferrari? Ci racconti questo. Allora piangono perché ieri Carlos Sainz ha fatto una grande gara che si è sostanzialmente volatilizzata per una ripartenza. In Formula 1, non so se l'avete sentito, ci sono state tantissime bandiere rosse, tante safety car. In una di queste ripartenze Carlos Sainz ha toccato Fernand Alonso e gli è arrivata una penalità molto importante, 5 secondi che lui in sostanza l'ha dovuta scontare nel peggiore dei modi perché è stato fatto un ultimo giro dietro safety car. Sainz non si è potuto né difendere né attaccare e quindi visto che il trenino era tutto attaccato è finita la gara in dodicesima posizione perché non ha potuto fare niente. Quindi è stata una sanzione abbastanza pesante proprio per come l'ha dovuta affrontare. Ci sono stati altri incidenti tra Ocon e Gaslilli, manco nessuna penalità, o De Vries con suo compagno. C'è quello che fa arrabbiare. Ci sono state due pesi, due misure diverse. Una Ferrari è trattata male. È da anni che noi non veniamo trattati come top team. Questo mi fa indiavolare, scusate. Sindiavoli, Sindiavoli, direttore, non abbia paura di sfogarsi con noi. C'è un complotto, Henry, c'è un complotto. Sì, ma si prende anche il posto di Vanzini. Vanzini ha attaccato duramente la FIA, fa un po' anche pretendere che c'è un po' di malafede verso la rossa. Perché Vanzini fa ricordare anche i vecchi episodi. Io lo leggo, se vuole, direttore. I modi gestiti male dalla FIA. Io lo leggo, io lo leggo, direttore, così facciamo chiarezza. Raccolta di like. Mi piace vincere facile. Per ridare la vittoria. Carlo Vanzini, un tempo faceva film, adesso prego, prego. A Vettel, in Canada. È ovviamente una provocazione, perché la non penalità a Gasly, come in passato, quando avvenne tra compagni di squadra, il caso più clamoroso fu Rosberg, Hamilton in Spagna 2016, nessuna penalità. Rende ancora più ridicola quella data a Vettel per la dinamica molto simile. Con la differenza che Lewis alzò il piede, qui invece Ocon si è infilato. Sono passati anni, ma il disguido resta sempre lo stesso. La mancanza di uniformità. Così come è già successo tra compagni di squadra, ad esempio Baku, Perez e Ocon, o Leclerc-Fettel Austria-Brasile, quando l'incidente tra compagni di squadra si tende a chiudere un occhio, sbagliato, ma il fatto che sia all'interno della stessa squadra non dovrebbe essere una scusante. Soprattutto se poi archivi come normale incidente di un primo giro, perché allora rendi una farsa la giusta penalità a Sainz, e non è una scusante che sia successo in un giro che specifichiamo non è stato cancellato. Esiste. Ma per stabilire la partenza successiva sono tornati all'ultima rilevazione valida e Stroll-Leclerc è tutta un'altra dinamica, con Charles che aveva spazio a sinistra. La cosa che rende ancora più inaccettabile la velocissima penalità a Sainz è la mancata investigazione a Sargent, che fucile fuori De Vries. Erano tutti e tre da penalizzare, altrimenti se utilizzi il metro dell'incidente di gara, liberi tutti nel primo giro, allora neanche Sainz era da penalizzare. Avrebbero potuto sentire il pilota e al limite sanzionarlo per Baku. Boh. Mi sembra tutto più figlio di un ormai siderale distanza tra FIA e F1, che se non fosse che la proprietà del marchio F1 in concessione da FIA, Liberty già da tempo si sarebbe organizzata con commissari professionisti dedicata a quello. Aia, ma questo è pesante. Quindi si chiede un cambio ai vertici. Ci sono dichiarazioni forti, eh. Ma ha ragione. Tra la formazione FIA, non c'è amore, c'è amore e odio. Io non vedo i fan di Emycon che sono lamentati di Michael Masi. Qua mi sembra che la colpa non è di Masi, ma tutto l'organizzatore della FIA che sbaglia ogni anno. Ma ragazzi, fateci un attimo di chiarezza però, Henry, per chi non segue. Che cos'è questa FIA? Perché ha tutto questo potere? Com'è stato dato il potere alla FIA? La FIA sarebbe tipo la FIGC nel calcio, giusto? È come se fosse la federazione e il direttore di gare come l'arbitro di calcio. Devono applicare il regolamento. Però si sta facendo tutta questa polemica, e Henry può darmi sicuramente conferma di ciò, è il fatto che utilizzino il regolamento in maniera abbastanza forzata. Cioè è come se, faccio un esempio, un arbitro che deve dare un rigore non lo dà perché a sua discrezione quell'episodio non ne dà rigore, però nel regolamento è chiaro. Ok, in Formula 1 sta succedendo questo. C'è un regolamento, lo applicano in maniera discrezionale caso per caso. E quindi, in sostanza, la Formula 1 è in balia delle dinamiche. Ok, però perdonami. Perché si dice che la F1 ha dato la concessione alla FIA? Cioè mentre la FGC detiene il calcio, ok? La F1 ha dato la concessione alla FIA, dunque effettivamente si potrebbe cambiare ente. No, è la FIA che detiene i diritti. Poi viene da concessione a Liberty Media, ok? Liberty Media ha preso, attraverso un contratto, i diritti, ma la FIA in qualsiasi momento se li può riprendere. Ah, ok, perfetto. Quindi in realtà è la FIA che detiene la Formula 1. Se fosse di Liberty Media, la Formula 1 avrebbe, secondo lui, che può essere anche sensato, il fatto di cambiare tutto il sistema, ma non lo possono fare perché è vincolato. Azza, e per quanto è vincolato credo per sempre. Eh sì, purtroppo sì. Se tu vedevi la gara Enrix, non sembrava una gara di Formula 1, ma bullying. Perché? Sì, no, no, ha ragione Enri. Ha ragione Enri. Hanno fatto vedere più spettacolo che... Diciamo che Melbourne è anche un po' un tracciato del cazzo, cioè nel senso... L'hanno un po' modificata, però quello che si è visto in Formula 1 io non l'avevo mai visto da quando seguo le gare. Cioè, domenica hanno aiutato Verstappen, ha fatto la sua peggior gara che manco lui sa come cazzo l'ha vinta. Hanno penalizzato le Mercedes, la Ferrari, l'Aston Martin è arrivata sul podio che manco loro non sanno come sono arrivati. Ma come le Glerk 6 punti? Sarà un caso, non lo so, io ci vedo un po' di malafede. Sarà un caso che hanno aiutato la Red Bull e l'Aston Martin che hanno sfiorato il Budget Cup. Ah, quindi tu dici, cercano di favorire chi sfiora... Non c'è più rispetto, non c'è più rispetto. Ma perché, un attimo Henry, ma chi sfiora il Budget Cup, i soldi della multa li dà la FIA? Sì. Eh, allora ragazzi, è evidente, ma c'è un conflitto di interessi. Ma c'è un conflitto di interessi, ma diciamolo, non abbiamo paura di dirlo. Mi tocca anche difendere anche la Mercedes, che tra me fa un po' strano, storge un po' il naso, perché Hamilton e Russell sono stati penalizzati, come noi. Non c'è più rispetto né per la Mercedes e ne manco per la Ferrari. E non c'è rispetto per un uomo, caro Henry. Non c'è rispetto per un uomo che continua a metterci la faccia, nonostante tutto, eppure deve venire qui a prendersene le umiliazioni. Mi dispiace, e mi dispiace per te, che ci dedichi questo tempo per, appunto, inserire la cam e metterci la faccia. Mi dispiace davvero, fratello mio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. Grandissima, grandissima. Ragazzi, io sinceramente rimango allibito dalla gara che abbiamo visto ieri. Scusatemi un attimo in ritardo, però stiamo lavorando. Ma è una felpa della Mercedes, però, mi scusi. È la felpa del lavoro, mi scusi, è la felpa del lavoro, non ti posso fare niente. Ma lei pure è il conflitto di interessi totale, per favore. Sì, sì, sì. Guarda, ieri è stata una bruttissima giornata. Leclerc che esce al primo giro, Bagnaia con la Ducati che cade, e il Napoli ieri si era perso contro il Milan, quindi siamo a posto. Il fantacalcio com'è andato? Ah? Il fantacalcio non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Se si riserva, cioè, si protegge da altre bestemmie, fa bene. Esatto, 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 esatto. Cosa ne pensi della situazione, Sam? Qui c'era un po' di... Harry era molto, molto incazzato. Allora, sono totalmente d'accordo con Harry. Già mi ha fatto vedere il post di cui parlava. Per di più, ci siamo scambiati delle opinioni in merito alla gara di ieri. Posso dire che sono totalmente d'accordo con lui. Innanzitutto, per quanto riguarda la gestione gara, che è vero che la Formula 1 vuole attrarre più spettatori, vuole anche più spettacolo, però, va e sta andando a rovinare quello che è lo sport in sé della Formula 1. Di conseguenza, così, le persone le perdi invece che acquistarle. Onestamente, ieri abbiamo visto una cosa scandalosa, tre ripartenze, penalità contate nei momenti sbagliati o addirittura date troppo severamente come la penalità data a Science. Sinceramente, così non è più una questione, sai, non si parla più di sviluppo della macchina o di bravura del pilota, ma più che altro le gare vengono decise dalla FIA a questo punto. È come il wrestling? Sì, più o meno sì, nel senso che non ti dico che viene fatto a tavolino, ovviamente, come il wrestling, però diciamo che hai azzeccato la metafora, in un certo senso, perché stanno puntando tutto sullo show, il wrestling è uno show, stanno puntando quasi tutto sullo show, trascurando obiettivamente quello che è, pur se vince Red Bull, ad esempio, però stanno trascurando tutto quello che è, tutto il processo per arrivare a... Però posso dire... Scusate, posso fare un'osservazione da... Da persona che guarda pochissimo... Da Pagano. Ma se fosse, come dite voi, che spettacolo c'è a far vincere nettamente uno? Perché ha sforato il budget cap, Manfred. Sì, ma almeno lo fai vincere rubacchiando alla fine, se c'è un disegno, così, sai, c'è lo spettacolo che ti può raggiungere. Questo, dopo quattro gran premi, già ha vinto, che cacchio di spettacolo è? Lei sta umiliando i ferraristi a un'altra sessione. Su questo ha perfettamente ragione. Se guardavi la gara, Verstappen ha fatto cagare. Manco lui... Se lui vai nel microfono e gli dicono ma tu hai fatto una grande gara, lui ti dice no, sono stato un po' buto culo con il tre banniere rossi. No, Enri, adesso diciamo una con l'onestà. Come la stella raccontando tu, Enri sembra che la Red Bull abbia vinto per fortuna, quando invece ha una macchina che nettamente è più forte rispetto a quella degli avversari. Tornando al discorso di Enri, volevo un attimo ripartire nel discorso. Perché fanno tutto questo spettacolo? Perché sanno che se non mettessero un attimo le mani nella situazione ci sarebbero 25 gare noiose, perché ci sarebbe una Red Bull totalmente dominante e vedremo 50 giri, 70 giri di Verstappen e Perez che vincono. Quindi che cosa fanno? Dicono mettiamo un po' di Peppe, mettiamo la bandiera rossa perché con la ripartenza Verstappen potrebbe un attimo creare una collisione con Hamilton, creare un pochino di Peppe. Ma di base c'è una dominanza assoluta di Red Bull. Sì, sì, sì. Chiaramente sì. E infatti, a me sembra che sia per assurdo, quest'anno mi sembra, sai, da persona che non guarda, perché io amo più gli sport di squadra, però mi sembra più in ballo la MotoGP. Cioè, lì sai, ogni volta può cambiare... Però quello è sempre stato così, Manfred, in realtà. Cioè, la MotoGP è sempre stata più spettacolare della Formula 1. Poi sicuramente, io penso, intendi tu a livello di combattimento per il podio, per il posto alto. Certo, sotto quel punto di vista sì. Il problema è che si stanno andando a mettere del Peppe, riprendendo il discorso di Nicoletta, si stanno andando a mettere del Peppe nella Formula 1 dove non serve. Nel senso, vanno ad aggiungere, ad esempio, delle bandiere rosse, quindi delle ripartenze, in modo tale che magari, sai, ci scappi quel più qualche crash, qualche incidente, qualche contatto, cose che alla fine poi, a riscontro a livello mediatico, a livello social, riscuotono più successo, sicuramente del... Verstappen è arrivato primo, Verstappen è arrivato prima. Però è quello, Sanne, cioè, si parla più di Formula 1 oggi o quando Verstappen fa una gara pulita e vince al decimo giro con 20 secondi di distacco? No, ci parla sempre di più. Se ti fai un giro su YouTube o sui giornali, le uniche voci quando vince la Red Bull sono Vittorio Verstappen, un punto, cara incredibile, basta. Appunto. Prossima gestione della figlia, spettacolo, Ferrari, Will, si parla di tutto il resto al di fuori del vincitore, capito? Il vincitore, tra virgolette, è quello che viene calcolato di meno di questi periodi. Allora, a livello mediatico ci sta pure, però poi, se vai a rovinare lo sport per puntare tutto sullo spettacolo e fai la fine del wrestling e alla fine sono tutti quanti che fanno. Però, però non è, però ho capito, cioè, alla fine ieri Vrestelmania, io me lo so visto con piacere, cioè, pur sapendo che fosse finto, io ieri mi so visto quattro ore e mezza di wrestling, mi so divertito, mi so aggasato, invece una gara di Formula 1 in cui Verstappen al quinto giro è già a dieci secondi, non me la guardo divertendomi. Sai perché? Perché a Vrestelmania, te lo dico perché anche io lo vedevo, ci sei abituato, sei cresciuto con quell'idea che il wrestling, tra virgolette, è organizzato e uno show, mentre a differenza qua lo fanno passare come se, tra virgolette, è la verità, non c'è nulla di organizzato e vince chi è il migliore. Spai già, tecnicamente, chi è il migliore, che è Verstappen, e allora loro, per puntare qualcosa in più, cercano di ingerire questa forza. piuttosto che fare così, San, non si potrebbero aggiungere delle limitazioni alle macchine proprio. Cioè, se il problema è la macchina, se il problema è la macchina, limitateli la macchina e rendiamo tutto più spettacolare. Questo è verissimo, solamente che, tecnicamente, non lo puoi fare, lo so, perché se no vai a cambiare il campionato in corso. Però tecnicamente, San, non potresti, se tecnicamente, non potresti neanche manipolare le gare, quindi, dal momento in cui, tecnicamente, non potresti fare nessuna delle due, fai la cosa che rende più sportivo il tutto. Esatto, e il problema è che non lo fanno, nel senso che, magari non si può andare a limitare la macchina, perché tecnicamente, andresti poi ad annullare il lavoro fatto per bene di alcuni ingegneri, se sono la satbraica. Comunque sì, hanno una macchina da padre eterno e perché comunque dietro ci sono persone con la testa. Però, per esempio, in altre occasioni, il campionato, non ti dico che è stato falsato, ma è stato modificato. Sono state modificate delle regole e, diciamo che la Formula 1 è sempre tirata attorno a tutti questi misteri, tutte queste cose che non vanno. stanno cercando di far andare tutto in direzione dello sport, solamente che FIA, che sarebbe l'associazione della Formula, dell'associazione del club dell'automobile, eccetera, e Liberty Media, non trovano un accordo. Da una parte vogliono gestire le regole in una maniera e da un'altra parte vogliono gestire lo sport a livello pubblicitario. è un attimo laggato che sarebbe Liberty? Liberty Media è la società che si occupa dei diritti televisivi della Formula 1. Ok. Ok. La gestione sportiva è la società che ha i diritti televisivi della Formula 1 tecniche, non stanno andando molto d'accordo, perché per provare a mettere più spettacolo stanno mettendo insieme una serie di cose, di penalità o di... ma adesso vogliono provare a fare una sprint race che sarebbe una gara accorciata, una sprint race solamente per... no, vogliono introdurre scusami, delle qualifiche solamente per la sprint race che sarebbe una gara accorciata rispetto alla gara naturale che si fa il support. Per introdurre un po' più di spettacolo. Come fanno in MotoGP, no? Come la MotoGP, esatto. Che la MotoGP ha preso spunto dalla Formula 1 e la Formula 1 non vuole modificare un altro po' il format per mettere... Così, sì. Però poi, se durante la gara all'evento clou di due ore, due ore e mezza fai succedere quello che è successo ieri e dopo un po' di tempo le persone si scocciano. Scusami, allora vi faccio una domanda a parto da Nicoletta. Alla luce di tutto questo che state dicendo, eh? Sì. Che io ve lo voglio far passare per buono. Guarda come la mette sempre lo stronzo. Comunque, a inizio anno vi aspettavate dopo quanti sono? Regale, sì. Tre gran premi questa classifica di Leclerc su cui mi pare che voi avesse investito tanto. Mamma me, è imbarazzante. Nicoletta, rispondo io subito a mamma veloce. Anche Verstappen è paretto identico l'anno scorso. È vero, eh? Infatti si è ritirato nelle stesse due gare Verstappen, eh? Occhio, eh? Occhio! Ragazzi, il campionato è lungo. Poi, se ti devo dire una cosa, se mi aspetto tanto dalla Ferrari e dalla Leclerc ti dico di sì perché quest'anno non ci sono più scuse. Ok, ok, ok. Il problema è che la macchina non va, si sono d'accordo. No, non me l'aspettavo però di base l'errore che ha fatto ieri è partito da lui. Quindi c'è anche secondo me molta frustrazione dietro la Leclerc però non me l'aspettavo per certi versi d'altro canto sì perché storicamente tutti i piloti della Ferrari dopo 3-4 anni iniziano ad entrare in un loop negativo e iniziano a perdersi proprio perché non riescono più a gestire la pressione mediatica tutto quello che circonda mi ricorda Vettel proprio come ultimo riferimento quindi per certi versi no d'altro canto sì bisogna attenzione adesso a vedere con Leclerc con i nuovi aggiornamenti perché deve fare bene. Quando ci saranno questi nuovi aggiornamenti? Allora praticamente mi sembra che dobbiamo arrivare a Imola No vengono spalmati su più gran premi il primo aggiornamento verrà portato a Baku l'ultimo in Spagna a Barcellona quindi su tutte queste gare Ferrari dovrebbe portare una serie di aggiornamenti Una forbice di quante gare? Allora stiamo parlando d'aprile un mesetto di aggiornamenti quindi 3-4 gare 3-4 gare più o meno sì 3-4 gare perché adesso si va in Europa adesso si torna in Europa a gareggiare se non sbaglio tra un mese in Azerbaijan a gareggiare a gareggiare